Prima di tutto è bene ricordare come la psicopatologia sia altamente prevalente nell'ospedale generale. Di fatto una recente meta-analisi ha mostrato come circa un terzo dei pazienti ricoverati soffra di qualche disturbo psichiatrico. Tuttavia solo una minima parte di questi viene inviata a dei servizi di psichiatria di consultazione generando spesso in alcuni casi delle condizioni di urgenza che definiamo come delle situazioni di grave sofferenza psichica e di alterazione comportamentale che richiedono quindi tempestivamente un trattamento adeguato. Parliamo invece di emergenza quando le condizioni possono essere pericolose per la vita. In questa condizione quindi le parole chiave sono quindi gravità, necessità di intervento rapido e quindi una certa pressione all'agire. Le urgenze in psichiatria di consultazione hanno delle peculiarità in quanto ci troviamo a che fare con dei pazienti con comorbidità mediche nella maggior parte dei casi. Sappiamo come lo psichiatra spesso in qualche modo si senta poco a suo agio nella gestione di pazienti con comorbidità mediche. In alcuni casi in base alla letteratura sappiamo che i pazienti possono essere trasferiti negli SPDC senza un sufficiente approfondimento medico, d'altra parte risulta a volte anche difficile valutare i pazienti in quanto non sono in grado di esprimere la loro sofferenza e i loro sintomi verbalmente. Ci possiamo trovare infatti di fronte a pazienti intubati, pazienti sedati, pazienti afasici, pazienti confusi o agitati. Ma anche la peculiarità di questa forma di urgenze deriva anche dalle interventi terapeutici, in particolare quelli farmacologici. Ci possiamo trovare di fronte a pazienti con problematiche di assorbimento, pazienti cacchettici che non possono assumere terapie per via intramuscolare, per esempio, pazienti con vomito, pazienti a digiuno. Quindi quello che adesso cercherò di presentarvi sono alcuni dati che derivano appunto da questa abbastanza recente pubblicazione di questo studio multicentrico che ha coinvolto 9 centri e che ha cercato di comparare quella che è l'attività consultativa psichiatrica italiana nel corso dell'ultimo ventennio. I dati che vi presenterò non sono stati pubblicati in quanto riguardano una sottoanalisi di questi dati che riguardano appunto le consulenze richieste con urgenza. Quindi vedete che nel 1998 erano state raccolte 4.182 consulenze nel 2018-3.922 e vedete che nella maggior parte dei casi queste consulenze erano di tipo rutinario, quindi solo una minima parte venivano richieste con urgenza e noi quindi adesso ci concentreremo su questi dati. Intanto un primo dato è che solo una minima parte di questi pazienti poi viene ricoverata in SPDC, circa un 8-9% dei pazienti. Questo ci conforta anche un po' anche perché possiamo davvero essere in difficoltà a volte quando ci troviamo con dei pazienti con comorbidità medica. Abbiamo alcuni criteri che magari ci guidano con magari per esempio la presenza di segni vitali stabili, la storia psichiatrica pregressa, assenza di allucinazioni visive. Per esempio questi criteri qui hanno un alto valore predittivo negativo, quindi solo l'1,2% dei pazienti che soddisfavano questi criteri ha poi necessitato altre indagini, però rappresenta sempre comunque uno spettro per lo psichiatra. Quindi adesso però cercherò di parlarvi della tipologia di urgenze secondo una classificazione, una classificazione molto importante, quella di Zerbinati fatta il 17-11-2023 e non ho trovato altre nel frattempo, quindi me la sono inventata. La prima è quella delle cosiddette urgenze finte, quindi i pazienti in dimissione, pazienti che devono essere trasferiti, pazienti che vengono, la cui consulenza viene sollecitata da pressioni dei familiari oppure da dei colleghi, ad esempio il collega che è preoccupato per tematiche inerenti alla medicina difensiva, oppure per via dello stigma che il paziente affetto da patologie psichiatriche porta, oppure a volte anche da franche reazioni contro trasferali dei medici, come ad esempio è capitato qualche settimana fa quando un paziente in terapia intensiva che era stato intubato aveva sviluppato poi un quadro di un disturbo d'ansia, sappiamo che questo è associato a un prolungamento della ventilazione, fino a che non ha trovato un anestesista che ha voluto in qualche modo costringerlo a svezzarlo dall'intubazione, portando quindi a un quadro di agitazione psicomotoria, ovviamente poi quando lo si è andati a visitare il paziente era tranquillo. E su questo la letteratura mostra come lo psichiatra di consultazione abbia anche un ruolo educativo nei confronti dei nostri colleghi. C'è una certa letteratura che mostra come uno psichiatra disponibile nell'ospedale generale che possa affrontare queste tematiche, possa svolgere anche un ruolo pedagogico, possa avere un effetto positivo. Fortunatamente questo tipo di consulenze sono molto poche e vedete sono più o meno stabili nel corso di questo ventennio. Rappresentano circa un 5% delle richieste con urgenza. Vedete anche come le diagnosi, cioè i pazienti che poi venivano etichettati come portatori, nessuna diagnosi psichiatrica, sono invece diminuiti. Poi abbiamo il paziente agitato, quindi un paziente con delirium, paziente con disturbi comportamentali da demenza, paziente intossicato oppure in astinenza da alcol, da sostanze, da farmaci, da benzodiazepine, da farmaci anticolinergici. Il paziente affetto da patologia psichiatrica, francamente scompensata ma che presenta un quadro di comorbidità grave che quindi preclude un trasferimento in SPDC, almeno momentaneamente. Vedete come la maggior parte delle richieste di visita urgente è motivata proprio dalla presenza di sintomi psichiatrici non controllati. Per quanto riguarda le diagnosi vedete come la demenza e il delirium siano stabili, non ci sia stato un aumento, ma invece guardate i disturbi bipolari come sono aumentati così come l'abuso di sostanze o alcol. Infine abbiamo il paziente aggressivo o violento, sappiamo come questo comporti un allungamento dei tempi del ricovero, dei peggiori outcome proprio di quella che è la salute anche fisica, maggiori costi legati al trattamento e determini degli effetti negativi negli operatori, in particolar modo negli infermieri che sono maggiormente colpiti. Abbiamo poi le richieste per dei sintomi psichiatrici, ad esempio le reazioni a comunicazione alla diagnosi, reazioni ipocondriache oppure sintomi fobici, paziente che non può fare un esame strumentale per intensi stati di ansia oppure quadri di farmacofobia oppure per esempio fobie più specifiche come la fobia degli aghi che ad esempio nel paziente in trattamento con dialisi, che è considerata una terapia salva vita, è presente dal 25 al 47% dei pazienti. Abbiamo poi sintomatologie anche post-traumatiche che sappiamo essere davvero molto rappresentate, ad esempio vedete come quasi un terzo dei pazienti in terapia intensiva soddisfi i criteri per un disturbo post-traumatico da stress secondo questionari risultato, ma attraverso le scale cliniche si arriva a circa un 20%. Però questa è una condizione importante, ad esempio si parla di post-intensive care syndrome dove vedete che è rappresentata anche dei sintomi di salute riguardanti la sfera psichiatrica. Abbiamo poi le psicosi post-partum che la cui prevalenza è stabile, sappiamo grazie anche a grandi studi longitudinali, ma vedete come le richieste provenienti dai reparti di ginecologia, le visite urgenti sono aumentate, quasi raddoppiate. Una piccola parte anche di queste visite viene richiesta anche per interruzione di gravidanza. Poi abbiamo il paziente suicidario, di questo il professor Ballestrieri ci ha parlato a lungo, sappiamo che fortunatamente non è un evento così frequente il suicidio in ospedale, però è più facile che ci troviamo come psichiatri di consultazione ad avere a che fare con dei pazienti che hanno tentato il suicidio, hanno tentato il suicidio in maniera molto letale, quei tentativi di suicidio che vengono chiamati medically serious suicide attempt, cioè che finiscono in terapia intensiva, pazienti che necessitano poi di operazioni, sono quei pazienti che poi fenotipicamente sono più vicini a coloro che muoiono per suicidio. Sono pazienti che possono avere una reazione alla patologia, ad esempio con ideazione suicidaria, sappiamo come i pazienti affetti da patologia oncologica, ma anche i pazienti affetti da patologia neurologica siano particolarmente a rischio, le reazioni alle diagnosi, oppure abbiamo anche il paziente che è soverchiato da dei sintomi fisici e che quindi minaccia il suicidio. Spesso un intervento sul sonno, un intervento sul dolore portano poi a una rapida tranquillizzazione di questi pazienti. Quindi vedete come circa un 15% delle richieste di visita urgente è motivata da tentativi di suicidio o da un rischio di tentato suicidio e questa percentuale è rimasta stabile nel corso di 20 anni. Abbiamo poi le cosiddette sindrome neuropsichiatriche, quindi la catatonia che può essere o meno associata al delirium, la sindrome maligna da neurolettici e la sindrome serotoninergica. Spesso la catatonia e la sindrome maligna da neurolettici presentano aree di sovrapposizione determinando quella che può essere chiamata catatonia maligna. La catatonia brevemente sappiamo che può essere dovuta a quadri psichiatrici primari, a patologie neurologiche secondariamente, a patologie mediche generali o anche legata all'uso e alla sospensione di farmaci. Riguardo la catatonia sappiamo che è sottodiagnosticata nell'ospedale generale, ad esempio sappiamo che circa il 12% dei pazienti con delirium presenta dei quadri di catatonia. Per quanto riguarda la sindrome serotoninergica non abbiamo grossi dati, quello che però vi volevo sottolineare è di come i pazienti che vediamo in consulenza, vedete la seconda colonna, antidepressivi, nel 30% dei casi quasi già stanno assumendo ancora prima di essere visitati un antidepressivo. Quindi sappiamo quantomeno che nei reparti di terapia intensiva la sindrome serotoninergica non è qualcosa di raro, anche se probabilmente nell'ospedale generale la sindrome maligna dai neurolettici è ancora più frequente. Infine abbiamo le presentazioni drammatiche, quindi i quadri personologici e su questo c'è un'ampia letteratura, sappiamo come l'ospedale possa in qualche modo determinare delle paure inconsce o consce di abbandono in certi pazienti con determinate fragilità. è un ambiente che è intrinsecamente direi quasi ostile, è un paziente dove i pazienti vengono toccati, vengono sottoposti a esami invasivi a volte, dove vengono svegliati nel mezzo della notte per fare dei prelievi per esempio. Può essere utile quindi, mi avvio verso la conclusione, inquadrare i pazienti secondo il loro stile di attaccamento oppure anche secondo dei tipi personologici, in quanto sempre in condizioni di stress sappiamo bene che le modalità di adattamento di ogni persona sono intensificate e queste risposte insieme alla risposta controtransferale del medico ci possono davvero guidare per esempio il paziente dipendente, quello che suona tutto il tempo che richiede l'intervento dell'infermiere, ecco per lui la malattia rappresenta probabilmente una minaccia di abbandono e può provocare nel medico una risposta per esempio inizialmente una sensazione di potenza però poi di seccatura e quindi si può provare a gestire attraverso non esclusivamente un approccio farmacologico ma anche comportamentale questi quadri. Infine abbiamo le dimissioni contro il parere medico e sappiamo grazie a un classico studio che spesso sono motivate da paura travolgente del paziente, da rabbia, da psicosi o da stati confusionali ma anche da altre condizioni e quadri di negazione patologica o di non aderenza alla terapia. Per esempio in un classico studio la depressione è risultato l'unico predittore di richiesta di abbandono della dialisi che è un trattamento salvavita. Tuttavia non può terminare qui il discorso, decidere di smettere la dialisi è un argomento molto complesso che non equivale necessariamente a identificarlo come un suicidio. Quindi lo psichiatra di consultazione si può in qualche modo inserire in queste dinamiche non esclusivamente con un trattamento farmacologico che rappresenta comunque un'arma importantissima ma favorendo una comunicazione efficace inserendosi in queste difficoltà con i reparti tra il reparto e il paziente. Mi avvio verso la conclusione. Qui vedete come le problematiche legate alla gestione e alla compliance sono comunque una piccola parte delle motivazioni per cui viene richiesta la visita. riguardo le terapie vedete come al momento della consulenza i pazienti assumevano più frequentemente rispetto a vent'anni fa antidepressivi, antipsicotici e soprattutto stabilizzatori. Da parte del medico psichiatra questo trend è conservato. un' 所以 è un' Grazie.